L'area è nota per il numero di navi e di aerei che sono spariti nel nulla. I test nucleari del 54 non erano dei test. Cercavano di uccidere qualcosa. Lui è Kong. È il re di questo posto. È ora di dimostrare a Kong che è l'uomo il re. Correte! Kong Skull Island. Kong Skull Island. Dal 9 marzo al cinema.